Amici di Poker Italia 24 Maurizio Caressa e Riccardo Lacchinelli vi danno il benvenuto al Poker Italia 24 Challenge seconda edizione Vamos! 24 tra i migliori professionisti italiani del circuito avete già visto Super Baldas, Baldassarri e Dario Minieri si incontrano in un torneo ad invito buy in 2000 euro più 200 primo premio 20.000 euro ci sono tanti dei più forti abbiamo visto Dario Minieri Alfio Battisti, Giannino ne vedremo sicuramente delle belle ci saranno randellate 15.000 lo stack iniziale vediamo la composizione del nostro tavolo televisivo Alfio Battisti al Sit 1 professionista dell'online vero Riccardo? professionista recente diciamo sponsorizzato da una Poker Room di alto livello e uno dei più forti giocatori ottimi risultati in tutto il 2009 intanto inquadrato lì a sinistra il buon Leonardo Cucchiarini ricordiamo campione uscente vincitore del Poker Italia 24 Challenge prima edizione con una mano è lui l'uomo da battere ai limiti della regolarità però è contro lusso contro lusso che vediamo lo stesso tavolo che vorrà vendicarsi sicuramente contro Alessandro Lusso in grande spolvero in questo periodo asso donna donna jack jack river per Cucchiarini che sennò sarebbe uscito anche sabato abbiamo visto inquadrato alla destra di Cucchiarini Roby S che è un altro volto famoso nel circuito non solo per meriti pochiaristici e qua c'è anche dell'extra che lui parla molto di bandierine signorine in giro non voglio sapere per favore e intanto ci andiamo a vedere questo flop tre overcard per le coppie di minieri e di Cucchiarini ceccano entrambi banane per Lusso e Viali che sono ben contenti di andarsi a vedere una carta gratis Cucchiarini fuori posizione prima a parlare potrebbe farsi un'esplorativa check Dario non esce perché c'è giù sia l'asso sia il K e quindi non si fida è comunque un flop non rilanciato quindi sarà ancora check 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 e vincono i 2-8 di Dario vamos Dario 4 check porta a casa Dario Minieri però chi vince il primo pot si dice sempre che poi ma io non ci credo in questa cosa io cerco sempre di vincerlo e poi di vincere anche il secondo e il terzo il problema è che tu prima di essere eliminato non ne riesci a vincere neanche uno quindi per te c'è un'altra io ne vinco un sacco solo che sono tutti piccoli cioè quelli grossi li perdo ha girato solo il K e intanto abbiamo avuto cambio tavolo nuovi esatto nuovi avventori al tavolo televisivo abbiamo una parte sinistra del tavolo Petese e Marculet non dico niente Mischa finalmente è arrivata si a portare un po' di bellezza femminile Spider Ones festa grande Spider arriva Spider Festa c'è anche Alessandro Meoni Meoni che è un altro che a me piace molto come gioca giocatore molto estroso che dopo un 2008 Giannino Carta anche eccezionale nel 2009 è stato un po' alla finestra Pasquale altro regular dei dei mini eventi in Italia vediamo lo Spider Ones nazionale cosa ci combina con 8-5 ma sì giochiamocela dai ma sì dai facciamo il Romeo della situazione non facciamo rimpiangere i nostri chiedi spettatori Romeo andiamo all'impare dici che per un Romeo che abbiamo perso abbiamo trovato uno Spider Ones festa secondo me sì no tra i due giocatori c'è dal punto di vista tecnico penso ci sia parecchia differenza banane per tutti vinci cecca già si è reso praticamente se metti 50 va via Meoni ci pensa passa il cecca anche lui festa deve cercare un 6 per chiudere la scala centra l'8 Meoni insieme a Spider Ones esatto e adesso qua esce addirittura Pasquale pensando che nessuno abbia niente hai capito vinci eh e probabilmente ci saranno due call a meno che non pensino che vinci abbia mascherato la donna ma ma però potrebbe fargliela in mano la donna perché ha fatto check prima a parlare poteva essersi messo in check race sul flop non mi è piaciuto il fold di Giuseppe perché aveva anche il gutshot col 6 ci pensa Meoni a metterle ha bisogno di migliorare però non lo sa Jack un Jack adesso vediamo cosa fa Pasquale ah si è arreso vinci check check porta a casa Meoni e non pensava di vincerlo infatti se avesse puntato qua probabilmente se lo sarebbe portato a casa Pasquale vinci il piatto ha giocato bene sul turn ma a quel punto punta anche sul river in questo caso mi permetto adesso anche se per la condizione della mano Pasquale manca un piano dietro la mano cioè se io decido poi di bleffare turn e trovo resistenza in questo caso un call che però è un call per forza debole perché la donna avrebbe puntato primo o avrebbe lanciato sulla seconda street devo puntare ancora il river cioè devo darmi una chance di vincerlo se non lo vinco il turn poteva essere entrato con una bilaterale con un progetto di quattro quinti che non si è concretizzato quindi potrebbe avere una serie di punti oltretutto partendo dal presupposto che non abbia la donna che è una cosa che tu devi sapere il jack ti aiuta ulteriormente perché è un'altra overcard su un'eventuale coppietta piccole di quelle che sono sul tavolo quindi si presta a essere bleffato come piatto vabbò hai ragione non c'era un piano dietro la mano fatto sta che Vinci ha perso il piatto comunque non era un piatto particolarmente rilevante adesso si va a vedere il flop insieme a Giannino Salvatore Giannino e Pasquale quindi sono quattro i cuori in mano di Vinci millante da parte di Giannino e sarà un call questo per Vinci solo call eh sì a pizzicare il cuori potrebbe andare bene anche una donna o un jack vediamo cosa fa Giannino in caso di carta bianca questo è interessante carta bianca questa è una buona carta per continuare il bluff per Giannino bravo 2000 eh 2000 su un piatto da 5000 gli ha fatto quanto basta per non dargli le odds per chiamare in progetto e invece lui che fa chiama lo stesso river bloody river povero Pasquale non ha preso niente Giannino terza pallottola per Giannino vince veramente le banane e ovviamente passerà deve passare qui sta facendo un po' di scena per non far capire la sua mano le sue banane e Folda la partita continua ci vediamo alla prossima un saluto da Maurizio Caressa e Riccardo Lacchinelli vamos ciao